Io sono il dottor Giuseppe Belfiore, presidente dell'associazione abruzzese Gigi Ghirotti e questa associazione lega il proprio nome in Italia alla istituzione della giornata nazionale del sollievo che ogni anno viene celebrata l'ultima domenica di maggio. Questa giornata che è una giornata simbolica cerca di sensibilizzare i cittadini soprattutto alle problematiche che hanno le famiglie e i malati che si trovano nella condizione di affrontare delle malattie che poi li portano al termine della loro vita. Dunque si tratta anche di umanizzare quello che è un gesto di andare incontro alla persona debole. L'umanizzazione non è altro che un comportamento più consono a quelle che sono le problematiche della sofferenza e quindi soprattutto l'attenzione a non lasciare da soli queste persone deboli, soli nella loro sofferenza. A volte fa tanto avere un contatto fisico anche solo tenere la mano di uno di questi ammalati. Forse è anche più importante che dare dei farmaci. Questa giornata è stata istituita sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica dal 2001 e viene fatta in Italia con la collaborazione del Ministero della Salute e della conferenza delle regioni e delle province autonome. Quindi anche quest'anno nel 2012 la giornata del sollievo nazionale vede nella nostra regione la partecipazione del volontariato e anche delle istituzioni quali la giunta regionale presieduta dall'onorevole Gianni Chiodi e l'assessorato della sanità e l'agenzia sanitaria regionale che collaborano con le proprie aziende sanitarie parlo dell'azienda di Chieti, di Teramo, L'Aquila e Pescara che con il loro personale animeranno i gazebo che saranno posti nelle principali piazze delle città di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila. Allo stesso tempo abbiamo avuto il patrocinio della pastorale diocesana proprio perché l'attenzione ai problemi dei malati terminali effetti da dolore è sempre stata al centro dell'interesse della comunità cristiana e cattolica che è sempre molto vicina a questi ammalati e abbiamo avuto quindi anche il sostegno dell'ufficio pastorale sanitario della diocesi di Chieti Vasto. Inoltre